oi si mi potresti prestare il giacchetto che devo uscire dici questo ma vattene va bene oi marco ciao come stai tutto a posto ascolta ma guardate sta ritardata non lo so perché in questi giorni sta registrando un vocale ora ti faccio vedere io che è il cuore ehi si vuoi sentire una battuta? di ok ti è piaciuta la battuta uè ricaldo a posto allora è tutto bene il giacchetto va passano le ore e finalmente faremo un amore solo una volta o tutta la vita speriamo prima che la frase sia finita il giacchetto va passano le ore vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire però peccato che dovrà finire che dovrà finire vabbè bella ricca vabbè bella e dai rispondi porca cuttana dai ma che starei a fa oh mio dio quanto sono bella oggi scattiamo una foto per stylebook perchè è un po' che non la cambio se l'hanno passata in due o tre ore quindi ma prima di farmi prendere un selfie oh mio dio che ho proprio no 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 oh vabbè mi tengo quella ma so oggi faccio un po' meno schifo di ieri ma ma aggiorniamo un po' le immagini del rubino che ci sono passati due o tre anni che non la cambio non un po' così ecco spesso quindi quindi io direi prefer ok basta c'è oh dai oggi se prepariamo per bene che domani non a zona della scuola dovrebbe essere più stica di oggi perchè c'è oggi vabbè adesso siamo per te guarda allora vediamo un po' che sto oddio questo no brutto questa brutta ma che è sto schifo mi chiede come ha compiato sta roba questa mamma mia questa vedete questa non può far schifo e questo non sai niente qua e quello che sei i pantaloni come posso mettere sto straccio questo questo ammi che schifo e questi ma che cacchio è ho preso dai winks queste cose vabbè comunque qua non so niente questo questo è bloccato questo che è ma che è sto schifo ma tutto di tutto ma che cacchio è questo sopra non so niente che cacchio è ma che è sto rubato oh dio mamma non so niente da mettermi allora vediamo un po' di me ci mettiamo a scuola allora allora stagliezza perfetta ho cantuzza perfetto servono di pantaloni ecchi qua perfetto perfetto real noi ragazze ci mettiamo ore ed ore a prepararci a truccarci a mettere i vestiti a fare delle foto però la differenza è che i ragazzi ci mettono poco a fare tutto e ci mettono poco anche a ragionare col cervello infatti loro non ragionano col cervello ma con il in a a